Musica Open day per il gruppo Musa Scuole, che succede esattamente oggi? Oggi il centro di formazione ed orientamento professionale di Antonino Bello, il cui legale rappresentante è Antonio Campana, si è trasformato in un lab, in un lab interattivo e multimediale, in un lab dove facciamo dimostrazioni di quelle che sono le nostre attività didattiche quotidiane. Abbiamo la dimostrazione dei corsi di cucina mediterranea, di cake designer, di pizzaiolo, barman, tutto quello che noi svolgiamo realmente nelle nostre lezioni o lo abbiamo riprodotto in una stessa giornata. Noi siamo molto attenti a quelle che sono le richieste del mercato del lavoro e per questo proponiamo solo ed esclusivamente corsi di formazione inerenti alle figure richieste dal mercato del lavoro stesso. Inoltre siamo molto attenti a quella che è la tecnologia, tant'è appunto che fulcro della giornata di oggi è il nostro progetto Pianta alla Cultura. Da Pianta alla Cultura nasce il nostro Musa Pad, che è appunto un e-book 3.0, un supporto multimediale che facilita e aiuta, diciamo, concilia, avvicina la nostra utenza a quella che è la formazione professionale. Qual è il valore aggiunto di questo ente di formazione? Perché un soggetto dovrebbe scegliere voi? Il Musa Gruppo Scuole è un gruppo sempre all'avanguardia, al passo con i tempi, anzi direi oltre, diciamo, quelle che sono le solite prospettive. Siamo, appunto, come dicevo, attenti a quelle che sono le richieste del mercato del lavoro, attenti a quelle che sono le tecnologie. Appunto, ripeto, il Musa Pad è proprio, diciamo, l'incarnazione, con la somma di tutte le nostre realtà e le nostre, diciamo, competenze messe proprio a frutto. Entriamo nello specifico. Come funziona il Musa Pad? Il Musa Pad contiene una serie di applicazioni, video, dispense, tutto appunto a supporto multimediale e utile a quella che è la formazione. Vi faccio una piccola dimostrazione. Questa è la nostra applicazione, appunto, della piattaforma In-Earning e, ecco, vi compaiono tutti i corsi disponibili con all'interno video, materiali e dispense proprio caricate per ogni corso. Oggi è un giorno particolare perché, oltre all'Open Day, c'è un evento di grande importanza. Sì, l'Istituto Tecnico Economico Carlo Levi, al fine di valorizzare e promuovere la formazione e la cultura, che sono gli elementi fondamentali del nostro istituto, ha previsto per un'associazione sportiva di Corato, la Virtus Corato, di regalare a tutti i suoi componenti un corso di lingua straniera, lingua inglese e un corso di informatica. Lei è il presidente dell'associazione di Virtus Corato. Come reputa questa donazione, praticamente? Io ringrazio il signor Campana e tutto l'Istituto Carlo Levi per l'opportunità che ha dato ai nostri ragazzi di conoscere la struttura e, ora che abbiamo avuto anche questo grande regalo della patente europea, lo ringraziamo tantissimo perché è una cosa importantissima per la crescita del ragazzo, perché noi puntiamo sia alla crescita sportiva, ma soprattutto alla crescita personale del ragazzo, la formazione scolastica e tutto, quindi ci teniamo alla crescita 360 gradi dei nostri iscritti. Quindi colgo l'occasione di nuovo per ringraziare il signor Campana e tutto l'Istituto Carlo Levi per questa opportunità che ci ha dato.